Il libro del profeta Amos Capitolo primo Parole di Amos, uno dei pastori di Decoa, rivelate di envisione intorno ad Israele ai giorni di Uzziah, re di Giuda e ai giorni di Geroboamo, figliuolo di Joas, re di Israele, due anni prima del terremoto. E gli disse, E romperò le sbarre di Damasco, sterminerò da Bicat Aven, ogni abitante, e da Beth Eden, colui che tiene lo scettro, e il popolo di Siria andrà in cattività a Kir, dice l'Eterno. Così parla l'Eterno. Così parla l'Eterno. Per tre misfatti di tiro, anzi per quattro, io non revocherò la mia sentenza, perché è andato in mano ad Edom intere popolazioni, da loro menate in cattività, e non si sono ricordati del patto fraterno. Io manderò dentro alle mura di tiro un fuoco che ne divorerà i palazzi. Così parla l'Eterno. Io non revocherò la mia sentenza, perché hanno sventrato le donne incinte di Galaan per allargare i loro confini. Io accenderò dentro le mure di Rabba un fuoco che ne divorerà i palazzi in mezzo ai clamori di un giorno di battaglia, in mezzo alla burrasca, in un giorno di tempesta. E il loro re andrà in cattività. Egli, insieme con i suoi capi, dice l'Eterno. Amos, capitolo secondo. Così parla l'Eterno per tre misfatti di Giuda, anzi per quattro, io non revocherò la mia sentenza, perché hanno sprezzato la legge dell'Eterno e non hanno osservato i suoi statuti, e perché si sono lasciati sviare dai loro falsi dei dietro ai quali già i padri loro erano andati. Io manderò in Giuda un fuoco che divorerà i palazzi di Gerusalemme. Così parla l'Eterno per tre misfatti di Israele, anzi per quattro, io non revocherò la mia sentenza, perché vendono il giusto per danare e il povero se deve loro un paio di sandali, perché bramano veder la polvere della terra sul capo dei miseri e violano il diritto degli umini, e figlio e padre vanno dalla stessa femmina per profanare il nome mio santo. Si istendono presso ogni altare su vesti ricevute impegno, e nella casa dei loro dei bevano il vino di quelli che han colpito d'ammenda. Eppure io distrussi dinanzi a loro l'amoreo, la cui altezza era come l'altezza dei cedri, e che era forte come le querce, e io distrussi il frutto in alto e le sue radici in basso. Eppure io vi trassi fuori dal paese d'Egitto, e vi condussi per quarant'anni nel deserto per farvi possedere il paese dell'amoreo, e suscitai fra i vostri figliuoli dei profeti e fra i vostri giovani dei nazarei. Non è egli così, o figliuoli di Israele, dice l'Eterno? Ma voi avete dato a bere del vino ai nazirei e avete ordinato ai profeti di non profetare. Ecco, io farò scricchiolare il suolo sotto di voi come lo fa scricchiolare un carro pieno di covoni. All'agile mancherà modo di darsi alla fuga. Al forte non gioverà la sua forza, e il valoroso non salverà la sua vita. Colui che maneggia l'arco non potrà resistere, chi ha il pie veloce non potrà scampare, e il cavaliere sul suo cavallo non salverà la sua vita. Il più coraggioso fra i prodi fuggirà nudo in quel giorno, dice l'Eterno. Amos, capitolo terzo Ascoltate questa parola che l'Eterno pronunzia contro di voi, o figliuoli di Israele, contro tutta la famiglia che io trassi fuori dal paese d'Egitto. Voi soli ho conosciuto fra tutte le famiglie della terra, perciò io vi punirò per tutte le vostre iniquità. Due uomini, camminano essi assieme se prima non si sono concertati? Il leone rugge egli nella foresta se non ha una preda? Il leoncello fa egli udire la sua voce dalla sua tana se non ha preso nulla? L'uccello cade egli nella rete in terra se non gli è tesa un'insidia? La tagliola scatta essa dal suolo se non ha preso qualche cosa? E la tromba? Suona essa in una città senza che il popolo tremi? Una sciagura piomba là sopra di una città senza che l'Eterno ne sia l'autore? Poiché il Signore l'Eterno non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi i profeti. Il leone rugge chi non temerà? Il Signore l'Eterno parla e chi non profeterà? Proclamate questo sui palazzi da Sdod e sui palazzi del paese d'Egitto e dite adunatevi sui monti di Samaria e vedete che grandi disordini esistono in mezzo ad essa e quali oppressioni hanno luogo nel suo seno. Essi non sanno fare ciò che è retto, dice l'Eterno, accumulano nei loro palazzi i frutti della violenza e della rapina. Perciò così parla il Signore l'Eterno, ecco il nemico tutto attorno al paese, egli abbatterà la tua forza e i tuoi palazzi saranno saccheggiati. Così parla l'Eterno come il pastore strappa dalla gola del leone due gambe o un pezzo d'orecchio, così scamperanno i figlioli di Israele che in Samaria stanno ora seduti sull'angolo di un divano o sui damaschi di un letto. Ascoltate questo e attestatelo alla casa di Giacobbe, dice il Signore, l'Eterno, l'Idio dell'eserciti. Il giorno che io punirò Israele delle sue trasgressioni, punirò anche gli altari di Beto, e i corni dell'altare saranno spezzati e cadranno al suolo, e abbatterò le case d'inverno e le case d'estate e le case d'avorio saranno distrutte e le grandi case spariranno, dice l'Eterno. Amos, capitolo quarto. Ascoltate questa parola, vacche di Basan, che state sul monte di Samaria, voi che opprimete gli umili, che maltrattate i poveri e che dite ai vostri signori, portate qua che beviamo. Il Signore l'Eterno l'ha giurato per la sua santità. Ecco verranno per voi dei giorni in cui sarete tratte fuori con degli uncini e i vostri figlioli con gli ami da pesca. Voi uscirete per le brecce, ognuna dritto davanti a sé e abbandonerete i vostri palazzi. Andate a Beto e peccate, a Gilgal e peccate anche di più. Recate ogni mattina i vostri sacrifici e ogni tre giorni le vostre decime. Fate fumare sacrifici d'azione di grazia con lievito. Bandite delle offerte volontarie e proclamatele, poiché così amate di fare, o figlioli di Israele, dice il Signore l'Eterno. Ed io, dal canto mio, v'ho lasciati a denti asciutti in tutte le vostre città. V'ho fatto mancare il pane in tutte le vostre dimore. Ma voi non siete tornati a me, dice l'Eterno. E v'ho pure rifiutato la pioggia quando mancavano ancora tre mesi la mia tritura. Ho fatto piovere sopra una città e non ho fatto piovere sopra un'altra città. Una parte di campo ha ricevuto la pioggia e la parte su cui non ha piovuto è seccata. Due, tre città vagavano verso un'altra città per bevere dell'acqua e non poteran dissetarsi. Ma voi non siete tornati a me, dice l'Eterno. Io vi ho colpito di ruggine e di carbonchio, le locuste hanno divorato i vostri numerosi giardini, le vostre vigne, i vostri fichi, i vostri oliveti, ma voi non siete tornati a me, dice l'Eterno. Io ho mandato fra voi la peste come in Egitto, ho ucciso i vostri giovani per la spada, ho catturato i vostri cavalli, vi ho fatto salire al naso il puzzo dei vostri accampamenti, ma voi non siete tornati a me, dice l'Eterno. Io vi ho sovvertiti come quando Dio sovvertì Sodoma e Gomorra e voi siete stati come un tizzone strappato dal fuoco, ma voi non siete tornati a me, dice l'Eterno. Perciò io ti farò come ho detto, o Israele, e poiché io farò questo contro di te, prepariti, o Israele, a incontrare il tuo Dio, poiché eccolo, colui che forme monti e crea il vento e fa conoscere all'uomo qual è il suo pensiero, colui che muta l'aurora in tenebre e cammina sugli alti luoghi della terra, il suo nome è l'Eterno, l'Iddio degli eserciti. Amos, capitolo quinto. Ascoltate questa parola, questo lamento che io pronunzio su voi, o casa di Israele. La Vergine di Israele è caduta e non risorgerà più. Giace distesa sul suo suolo e non vecchiera riarsi, poiché così parla il Signore l'Eterno. Alle scinta che mettevano in campagna mille uomini non ne resteranno che cento. Alle città che ne mettevano in campagna cento non ne resteranno che dieci per la casa di Israele. Poiché così parla l'Eterno alla casa di Israele, cercatemi e vivrete. Non cercate Beto, non andate a Gilgal, non vi recate fino a Beersheba, poiché Gilgal cadrà di sicuro in cattività e Beto sarà ridotto a niente. Cercate l'Eterno e vivrete, per tema che egli non si avventi come un fuoco sulla casa di Giuseppe e la divori senza che in Beto ci sia chi spenga. O voi che mutate il diritto in assenzio e gettate a terra la giustizia. Egli ha fatto le pleadi e Orione muta l'ombra di morte in aurora e fa del giorno una notte oscura. Chiama le acque del mare e le riversa sulla faccia della terra. Il suo nome è l'Eterno. Egli fa sorgere d'improvviso la rovina sui potenti, sì che la rovina piomba sulle fortezze. Essi odiano colui che li riprende alla porta e hanno in orrore chi parla con integrità. Perciò, visto che calpestate il povero e desigete da lui donativi di frumento, voi fabbricate case di pietre da taglio ma non le abiterete. Pianterete vigne deliziose ma non ne berrete il vino poiché io conosco come sono numerose le vostre trasgressioni, come sono gravi i vostri peccati. Voi sopprimete il giusto, accettate regali e fate torto ai poveri alla porta. Ecco perché i tempi come questi il Savio si tasce, perché i tempi sono malvaci. Cercate il bene e non il male onde viviate e l'Eterno l'Iddio degli eserciti sia con voi come dite. Odiate il male, amate il bene e alle porte stabilite saldamente il diritto. Forse l'Eterno l'Iddio degli eserciti avrà pietà del rimanente di Giuseppe. Perciò così dice l'Eterno l'Iddio degli eserciti il Signore. In tutte le piazze si farà lamento, in tutte le strade si dirà ahimè, ahimè, si chiameranno gli agricoltori perché prendano il lutto e si ordineranno lamentazioni a quelli che le sanno fare. In tutte le vigne si farà lamento perché io passerò in mezzo a te, dice l'Eterno. Guai a voi che desiderate il giorno dell'Eterno. Che vi aspettate voi dal giorno dell'Eterno? Sarà un giorno di tenebre e non di luce. Sarà di voi come d'un uomo che fugge davanti a un leone e lo incontra un orso. Come d'uno che entra in casa appoggia la mano alla parete e un serpente lo morde. Il giorno dell'Eterno non è esso forse tenebre e non luce? Oscurismo senza splendore? Io odio, disprezzo le vostre feste, non prendo piacere nelle vostre solenne radunanze. Se mi offriste i vostri olocausti e le vostre oblazioni, io non li gradisco. Io non fo conto delle bestie grasse che mi offrite in sacrifici di azioni di grazie. Lungi da me il rumore dei tuoi canti che io non ho da più la musica dei tuoi salteri. Ma corra il diritto come l'acqua e la giustizia come un rivo perenne. O casa di Israele, mi presentaste voi sacrifici e oblazioni nel deserto durante quarant'anni? Orbene, voi vi toglierete in spalla il baldocchino del vostro re e il piedistallo delle vostre immagini, la stella dei vostri dèi che voi vi siete fatti. Ed io vi farò andare in cattività al di là di Damasco, dice l'Eterno, che a nome di Dio degli eserciti. Amos, capitolo sesto. Guai a quelli che vivon tranquilli in Sion e fiduciosi sul monte di Samaria, ai notabili della prima fra le nazioni dietro ai quali va la casa di Israele. Passate a Calne e guardate e di là andate fino a Amat la Grande, poi scendete a Gat dei Filistei. Quelle città stanno esse meglio di questi regni? O il loro territorio è esso più vasto del vostro? Voi volete allontanare il giorno malvagio e fate avvicinare il regno della violenza. Giacciono sui letti d'avorio, si sdraiano sui loro divani, mangiano gli agnelli del greggio e i vitelli tratti dalla stalla, vaneggiano al suono del saltero, si inventano strumenti musicali come Davide e bevano il vino in larghe coppe e sungono con gli oli più squisiti ma non si addolorano per la rovina di Giuseppe perciò se ne andranno in cattività alla testa dei deportati e cesseranno i clamori di questi banchettanti. Il Signore l'Eterno l'ha giurato per se stesso dice l'Eterno l'iddio degli eserciti io detesto la magnificenza di Giacobbe odio i suoi palazzi e darò in mano del nemico le città con tutto quel che contiene e avverrà che se resteranno dieci uomini in una casa morranno un parente verrà con lui che brucia i corpi a prendere il morto e a portarne via di casa le ossa e dirà colui che è in fondo alla casa ce ne è altri con te l'altro risponderà no e il primo dirà zitto non è il momento di menzionare il nome dell'Eterno poiché ecco l'Eterno comanda e fa cadere a pezzi la casa grande riduce la piccola in frantumi i cavalli corrono essi sulle rocce vi si ara egli con bovi che voi mutiate il diritto in veleno e il frutto della giustizia in assenzio voi che vi rallegrate di cose da nulla voi che dite non è egli con la nostra forza che abbiamo conquistato potenza poiché ecco casa di Israele dice l'Eterno l'iddio degli eserciti io faccio sorgere contro di voi una nazione che vi opprimerà dall'ingresso di Amat fino al torrente del deserto Amos capitolo settimo il Signore l'Eterno mi diede questa visione ecco egli formava delle locuste al primo spuntare del Guaime era il Guaime dopo la facciatura per il re quando esse ebbero finito di volare l'erba della terra io dissi oh Signore Eterno dè perdona come potrebbe sussistere Giacobbe piccolo come egli è e l'Eterno si pentì di questo ciò non avverrà disse l'Eterno e il Signore l'Eterno mi diede questa visione ecco il Signore l'Eterno proclamava di voler difendere la sua causa mediante il fuoco e il fuoco divorò il grande abisso e stava per divorare l'eredità allora io dissi Signore Eterno dè cessa come potrebbe sussistere Giacobbe piccolo come egli è l'Eterno si pentì di questo neppure quello avverrà disse il Signore l'Eterno egli mi diede questa visione ecco il Signore stava sopra un muro tirato a piombo aveva in mano un piombino e l'Eterno mi disse Amos che vedi e io rispose un piombino e il Signore disse ecco io pongo il piombino in mezzo al mio popolo di Israele io non gli userò più oltre tolleranza saranno devastati gli alti luoghi di Isacco i santuari di Israele saranno distrutti e io mi leverò con la spada contro la casa di Geroboamo allora Amazia sacerdote di Betel mandò a dire a Geroboamo re di Israele Amos congiura contro di te in mezzo alla casa di Israele il paese non può sopportare tutte le sue parole e Amos infatti ha detto Geroboamo morirà di spada e Israele sarà menato in cattività lungi dal suo paese e Amazia disse ad Amos reggente vattene fuori nel paese di Giuda mangia colai il tuo pane e la profetizza ma in Betel non profetare più perché è un santuario del re una residenza reale e allora Amos rispose e disse io non sono profeta né discepolo di profeta ero un mandriano e coltivavo i sicomori l'Eterno mi prese dietro al grege e l'Eterno mi disse va profetizza al mio popolo di Israele ordunque ascolta la parola dell'Eterno tu dici non profetare contro Israele non predicare contro la casa di Isacco perciò così parla l'Eterno la tua moglie si prostituirà nelle città i tuoi figlioli e le tue figliole cadranno per la spada e il tuo paese sarà spartito con la cordicella e tu stesso morai su terra impura e Israele sarà certamente menato in cattività lungi dal suo paese Amos capitolo ottavo il Signore l'Eterno mi diede questa visione ecco era un paniere di frutti maturi e lì mi disse Amos che vedi ed io risposi un paniere di frutti maturi e l'Eterno mi disse matura è la fine del mio popolo di Israele io non gli userò più tolleranza in quel giorno dice il Signore l'Eterno i canti del palazzo diventeranno degli urli grande sarà il numero dei cadaveri saranno gettati dappertutto in silenzio ascoltate questo o voi che vorreste trangugiare il povero e distruggere gli umili del paese voi che dite quando finirà il nove lunio perché possiamo vendere il grano quando finirà il sabato perché possiamo aprire i granai scemmando l'efa aumentando il ciclo falsificando le bilance per frodare comprando il misero per denaro e il povero se deve un paio di sandali e venderemo anche la vagliatura del grano l'Eterno l'ha giurato per colui che dà la gloria a Giacobbe mai dimenticherò alcuna delle vostre opere il paese non tremerà esso a motivo di questo ogni suo abitante non ne farà e di cordoglio il paese si solleverà tutto quanto come il fiume ondeggerà e si abbasserà come il fiume d'Egitto e in quel giorno avverrà dice il Signore l'Eterno che io farò tramontare il sole a mezzodì e in pieno giorno farò venire le tenebre sulla terra muterò le vostre feste in lutto e i vostri canti in lamento coprirò di sacchi tutti i fianchi e ogni testa sarà rasa getterò il paese in lutto come per un figlio unico e la sua fine sarà come un giorno d'amarezza ecco vengono i giorni dice il Signore l'Eterno che io manderò la fame nel paese non fame di pane o sete d'acqua ma la fame e la sete di udire le parole dell'Eterno allora errando da un mare all'altro da settenzione allevante correranno qua e là in cerca della parola dell'Eterno e non la troveranno in quel giorno le belle vergini e i giovani verranno meno per la sete quelli che giurano per il peccato di Samaria dicano com'è vero che il tuo Dio vive Odan e viva la via di Bershiba cadranno e non risorgeranno mai più Amos capitolo nono io vidi il Signore che stava in piedi sull'altare e disse percuoti i capitelli e siano scrollati gli architravi spezzali sul capo di tutti quanti ed io ucciderò il resto con la spada nessun dessi si salverà con la fuga nessuno dessi scamperà quando anche penetrassero nel soggiorno dei morti la mia mano li strapperà di là quando anche salissero in cielo di là io li traggo giù quando anche si nascondessero in vetta il Carmelo io li scoverò colà e li prenderò quando anche soccultassero al mio sguardo in fondo al mare la comanderò al serpente di morderli e quant'anche andassero in cattività davanti a loro nemici la comanderò alla spada di ucciderli io fisserò su di essi i miei occhi per il loro male non per il loro bene il Signore l'iddio degli eserciti è quelli che tocca la terra ed essa si strugge e tutti i suoi abitanti fanno cordoglio essa si solleva tutta quanta come il fiume e si abbassa come il fiume d'Egitto egli è colui che costruisce nei cieli le sue stanze superiori e ha fondato la sua volta sulla terra egli chiama le acque del mare e le spande sulla faccia della terra il suo nome è l'Eterno non siete voi per me come i figlioli degli etiopi o i figlioli di Israele dice l'Eterno non trassi io Israele fuori dal paese d'Egitto e i filistei da Kaftor e i siri da Kir ecco gli occhi del Signore dell'Eterno stanno sul regno peccatore e io lo distruggerò di sulla faccia della terra non di meno io non distruggerò del tutto la casa di Giacobbe dice l'Eterno poiché ecco io darò l'ordine e scuoterò la casa di Israele fra tutte le nazioni come si fa col vaglio e non cadrà un granello in terra tutti i peccatori del mio popolo morranno per la spada essi che dicono il male non giungerà fino a noi e non ci toccherà in quel giorno io rialzerò la capanna di Davide che è caduta ne riparerò le rotture ne rileverò le rovine la ricostruirò come era ai giorni antichi affinché posseghe il resto d'Edom e tutte le nazioni sulle quali è invocato il mio nome dice l'Eterno che farà questo ecco i giorni vengono dice l'Eterno quando l'aratore raggiungerà il mietitore e il pigiatore dell'uva colui che sparge il seme quando i monti stileranno mosto e tutti i colli si struggeranno io trarrò dalla cattività il mio popolo di Israele ed essi riedificheranno le città desolate e le abiteranno pianteranno vigne e ne berranno il vino faranno i giardini e ne mangeranno i frutti io li pianterò sul loro suolo e non saranno mai più svelti dal suono che io ho dato loro dice l'Eterno il tuo Dio il tuo Dio